Benvenuti al centro di notizie e gossip. Prima di entrare nelle novità del giorno, un mi piace e la vostra iscrizione al canale sono per noi segni immensi di apprezzamento. Grazie di cuore. Oggi, mi trovo a parlare di una perdita significativa che ha toccato le fondamenta della televisione italiana. Chi ci ha lasciato all'età di 51 anni nella sua città, Roma, non era un uomo qualunque. La sua carriera come sceneggiatore, romanziere e documentarista ha segnato profondamente il mondo della fiction televisiva per più di 30 anni. Tiberi ha vissuto per raccontare storie, una passione che non solo ha caratterizzato la sua vita professionale ma che ha trovato espressione in un romanzo, una sorta di specchio del suo viaggio artistico. La notizia della sua scomparsa è stata resa nota dalla sua famiglia, e l'eco del suo lascito è stato raccolto dall'Ansa. L'agenzia di stampa ha messo in luce la sua straordinaria capacità di infondere l'anima della commedia all'italiana nel tessuto della narrazione televisiva. La perdita di Marco Tiberi non è solo quella di un grande artista, ma di un figlio di Roma, città dove ha mosso i primi passi artistici ispirato dal grande furio Scarpelli. La traiettoria professionale di Tiberi si è distinta per una notevole ecletticità, spaziando dalla letteratura al cinema, spesso intrecciando le due dimensioni. L'ultimo saluto a Marco Tiberi sarà dato lunedì 25 marzo, alle 14.30, in un luogo carico di suggestione, il Cimitero a Cattolico di Piramide, a Roma. In suo ricordo, quella stessa mattina, alle ore 11, si terrà una cerimonia alla Casa del cinema a Villa Borghese.